Dopo aver portato a termine la missione e ottenuto il diploma Ben fatto ragazzo Artoo era ansioso di ritornare con Shrek a molto molto lontano Ok andiamo Nel frattempo nelle catacombe sotto il castello la bella addormentata era alla ricerca delle sue amiche imprigionate Stavo dicendo la bella addormentata era alla ricerca Era alla ricerca Era alla ricerca delle sue amiche poiché le loro vite dipendevano da lei Non devi per forza alzare la voce Oh era ora Fiona, puoi sentirmi? Bella addormentata Devi essere vicina, presto Oh 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 Da questa porta non si passa Sì, è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siete davvero patetici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, per questa volta l'aprino. E, come dire, se venerdì sera non avete nulla da fare, che ne dite di uno spettacolo di burattini? Grazie a tutti. Ora si balla! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti dirò nulla! Ah, sì? Eh, passatemi del latte! Non mi fai certo paura! Ah, sì? Fate della cioccolata calda! Una bella cioccolata calda! No, no, no! No, 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 no! Fiona! Dove sono Raperonzolo e le altre? Dove sono Raperonzolo e le altre? Dicono che adesso Raperonzolo stia con Azzurro. Che sciagurata! E ho sentito che interrogavano Pan di Zenzero. Dobbiamo salvarlo! Aprire la porta? Ma certo, mia dolce dormiglione! Ehi, perché non hai mangiato le sbarre per scappare? Oh, ma rivoltante! Non sono mica un cannibale! Ragazze, sono così contento di vedervi! Stavano per farmi cose orribili! Con la cioccolata! Ora sei al sicuro? Hai visto Cenerentola o Pinocchio? Stromboli ha portato Pinocchio al castello della regina cattiva! E intende usarlo per fabbricare un esercito di malvagi burattini! Ma dov'è Azzurro? Che sia maledetto! È tornato al castello per preparare il suo grande spettacolo! Allora è là che andremo! Giusto? La adoro, ma adesso è solo d'intralcio! Pandi Zenzero, tienila d'occhio! Al suo risveglio, portala fuori di qui! Se pensano di fermarmi con una porta di legno! Di video, czasassi ripoli! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.